Il campionato di eccellenza, che virtualmente subirà un altro eseditamento da fine gennaio a metà febbraio, vedrà il Bassano, che si ripresenterà in campo tra un mesetto, che sarà completamente rivoluzionato, non tanto e non solo per tentare una rimonta che è obiettivamente fuori portata in ottica promozione, quanto semmai per gettare le basi per la prossima stagione, quando la promozione dovrà essere centrata a tutti i costi, senza dover rifare ex novo l'organico ogni estate. In questo senso sono arrivati sinora il difensore centrale Leonardo Pilotto, il centrocampista Mattia Sandrini, la mezzalla offensiva francese Abdul Maite e il centravanti di origini croate Antonio Lucanovic. Hanno altresì salutato il mediano Giacomo Cenetti, l'interno Alessandro Miotto, l'ala Marco Roveretto e il centravanti Andrea Antenucci, ma il macchillage invernale non è ancora completato, arriverà un altro esterno offensivo emergente dai professionisti e presumibilmente un altro centrocampista di qualità. Visti i tempi non c'è fretta, ma indicativamente la settimana avventura queste operazioni andranno in porto, per ridisegnare un girone di ritorno quantomeno galloppante e per riaccendere nuovi e doverosi entusiasmi.